Abbiamo voluto fare questo spettacolo di chiara impostazione natalizia per chiudere quello che è il progetto di produzione del 2022. Una commedia ricca di sentimenti, una commedia musicale ricca di sentimenti, di emozioni e di storie semplici che però fanno commuovere. Con la partecipazione di una guest come Corrado Tedeschi, con Martina Rifonte e soprattutto con la partecipazione di tutte le rappresentanze per fascia d'età artistiche della nostra Grigento. Abbiamo i bambini dai sei anni fino ad arrivare a un centenario che mio padre, che fra un piccolo cammeo, fa il Cardinale Borromeo. Quindi rimettendo dietro Pippo Grapanzano, Salvatore Nocera, Giovanni Moscato e tanti altri che partecipano a questo spettacolo, i ragazzi della Scuola del Musical di Marco Savatteri, col quale ho il piacere di dirigere quest'opera. Insomma, una festa per farci tanti auguri di Buon Natale. 17-18 dicembre, una sfilza di mattinè dal 16 al 20, ci sarà al Teatro Pirandello il Musical Buoni se potete, con la regia di Francesco Bellomo e di Marco Savatteri, e con Corrado Tedeschi, Martina Di Fonte e tanti artisti siciliani e non solo, per raccontare la storia di San Filippo Neri. Una tematica sacra e religiosa su uno sfondo ironico, sarcastico, rispettosissimo di una figura meravigliosa, quale quella del santo che ha inventato l'oratorio, ma con la possibilità di ridere e interrogarsi sul senso del bene. Un musical colorato, con coreografie, canti corali, con danze, con momenti corali, e tanti spunti di riflessione, e soprattutto tanta allegria e simpatia. Un atto unico sostenuto di ritmo per conoscere una Roma del Cinquecento che ha ispirato poi grandi tradizioni. State buoni se potete. È la storia di San Filippo Neri, un personaggio meraviglioso, un personaggio che ha dedicato tutta la sua vita all'aiuto dei bambini che trovava per strada e ha sempre un po' rifiutato i paludamenti della Chiesa, ha rifiutato di essere cardinale, di entrare in quel meccanismo per continuare a fare il suo lavoro per strada. Quindi un personaggio molto vicino a Gesù Cristo, mi pare di dire. E quindi è bello e anche emozionante il personale, un santo che vive. Nella mia vita ne ho fatte di tutti i colori, ma l'idea di diventare santo, in vecchiaia si fa. Grazie.